Ciao a tutti i nostri e non i nostri. Con quali новine oggi conoscevi Adriano Lolle? Ho il piacere di presentare un'altra novità, la penna Icara. Una penna per disegnare e scrivere su legno, carte e altri materiali infiammabili. È inutile? Sì, in effetti può essere pericoloso, visto che può infiammare. Quindi praticamente come i fiammiferi non va dato ai bambini e va utilizzato con molta attenzione. C'è molta energia per te? L'energia è quella solare, quindi a costo zero. E l'energia gratis. Potete scrivere finalmente senza consumare nessuna energia dell'ambiente. Puoi provare? Sì, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dimenticavo, per utilizzare la penna Icara sono necessarie due cose. Uno, un occhiale da sole, meglio se quelli da montagne o da saldatore. Due, che ci sia del sole e anche alto, perché altrimenti senza sole e senza occhiale sarebbe impossibile poter disegnare o scrivere. Grazie per avermi seguito e arrivederci alla prossima puntata.